Anticipazioni Terra Amara, una notizia agghiacciante scuote Cucurova, l'annuncio del matrimonio tra Zuleya e Mehmet fa scalpore. Mentre Betul scopre tramite una vecchia foto un legame oscuro tra Demir e Akan Gumuzoglu. Siete pronti a scoprire cosa succederà? Mi raccomando rimanete fino alla fine. Durante l'intervento, il battito cardiaco di Zuleya si interrompe improvvisamente, costringendo i medici a intervenire con il defibrillatore. Nel frattempo, nella sua mente, Zuleya rivive le dolci parole di Akan mentre il suo cuore lentamente riprende a battere. Dopo un'attesa infinita, l'operazione finalmente termina e Zuleya viene trasferita in sala rianimazione, seguita da Luce, Fikret e Akan. Mentre Luce cerca di confortare Fikret, Akan si appropria degli oggetti di valore di Zuleya, giustificandosi come il suo fidanzato. Luce, testimone dell'amore di Mehmet per Zuleya, esorta Fikret ad accettare la realtà e a cedere il passo. Nel frattempo, davanti alla terapia intensiva, Luce affronta Akan. Mentre Akan e Luce rimangono vicino alla stanza di Zuleya, alla villa Betul racconta una fiaba ad Adnan, inconsapevole della situazione critica di Zuleya. Fikret, preoccupato, si allontana. Nella sala d'attesa della terapia intensiva, Betul, Sani e Gulten si uniscono a Akan e Luce. Presto si unisce anche il procuratore, informandoli di un tentato omicidio. Betul accusa Akan Gumusoglu, ma il procuratore suggerisce la possibilità di altri sospetti. Kadir e Baap, ritornati alla baracca, sono preoccupati per il loro piano. Nel frattempo, Mahmud, visibilmente instabile, gira per il paese armato. Accusando Zuleya e la sua famiglia, viene arrestato dalla polizia. Nel frattempo, Zuleya sogna una vita felice con Akan e la nascita di una bambina di nome Giulia. Alla villa, l'ansia per le condizioni di Zuleya si fa sempre più intensa, mentre Ghaffur cerca di tranquillizzare tutti, soprattutto Rashid, assicurandogli che Fikret si occuperà di tutto. Mahmud si trova sotto interrogatorio, mentre il commissario lo pressa per ottenere dichiarazioni, l'uomo afferma che il suo intento non era ferire Zuleya, ma solo spaventarla. Motiva il gesto sostenendo di essere in debito con lei per una considerevole somma di denaro. Rivela che Zuleya aveva fatto pignorare i suoi beni, e si scusa per le sue azioni. Poco dopo, il commissario ascolta le testimonianze di Sani e Ghaffur, i quali riferiscono che alcuni mesi prima Mahmud, appassionato al gioco d'azzardo e alcolizzato, aveva minacciato Zuleya. Nonostante lei lo avesse aiutato in passato. Akan, in conversazione con il procuratore, nutre dubbi sulla colpevolezza di Mahmud e sulle sue motivazioni. Il procuratore assicura che le indagini continueranno. Nel frattempo, Kadir, nascosto dietro un angolo, ascolta la conversazione e successivamente si avvicina a Akan, fingendo sorpresa per quanto accaduto a Zuleya e offrendogli il suo aiuto. Akan risponde di indagare sulla questione prima di prendere una decisione. Akan effettua una telefonata misteriosa a qualcuno, sospettando che Kadir sia coinvolto, ma decide di non agire fino a quando non avrà la certezza. La sera, Luce e Fikret discutono dell'arresto di Mahmud, il quale ha ferito Zuleya. Fikret si chiede perché Zuleya non abbia rivelato le minacce ricevute. Luce risponde che Zuleya ha fiducia e risolverà il problema con Mememet. Tuttavia, Fikret la rimprovera per aver dimenticato l'insegnamento di Fecheli, che impone di non uccidere mai. Nel frattempo, in ospedale, il dottore informa Akan che i valori di Zuleya stanno migliorando e lo esorta alla pazienza. Successivamente, Akan può finalmente entrare nella stanza di Zuleya. Si avvicina, le prende la mano e le assicura che è forte e ce la farà, promettendo di stare sempre al suo fianco, quindi le pone un bacio delicato sulla fronte. Fikret, osservando attraverso il vetro, rimane profondamente sorpreso mentre assiste alla scena. In una serata tarda, Zuleya si sveglia dal coma e trova Akan seduto accanto a lei, sorridente. Le assicura che tutto è finito, che starà bene, e che lui sarà sempre al suo fianco. Dopo un salto temporale di alcuni mesi, la scena si sposta in tribunale. Kadir, nascosto dietro un angolo, osserva Zuleya e Akan uscire da un'aula con il loro avvocato. Zuleya è arrabbiata per la condanna a soli sei anni dell'uomo che l'ha colpita e costretta a passare mesi in ospedale. Akan le assicura che quell'uomo non avrà vita facile, mentre l'avvocato promette di presentare un ricorso. Kadir corrompe una guardia per parlare con Mahmud. Gli dice che con la buona condotta uscirà dopo 34 anni, ma lo avverte che se ci sarà un appello, dirà la verità. Kadir minaccia Mahmud, assicurandogli che si prenderà cura della sua famiglia, ma avverte che se lo tradirà, accadrà qualcosa sia a lui che ai suoi figli. Fikret, con la zia, decide di rimanere a vivere a Kukurova e rispettare l'amore tra Akan e Zuleya. La sua ferita è guarita, e costruirà un matrimonio felice con Betul. Racconta alla zia che il prossimo fine settimana faranno una vacanza insieme, e Betul è pronta per partire con Fikret e Kerem. Sermin raccomanda a Betul di trattare il bambino come se fosse suo figlio. Poco dopo, Betul parte con Fikret e il bambino, salutando tutti. Successivamente, mentre Zuleya e Luce fanno colazione, la radio trasmette la notizia di una sparatoria a Ismiri in un magazzino di proprietà di Akan Gumuzoglu, ricercato per contrabbando di armi. Sul luogo sono state trovate armi e munizioni pronte per la spedizione, con la triste notizia che dieci persone hanno perso la vita durante l'incidente. Nel frattempo, Akan si trova con Kadir, il quale sta dando l'ordine di interrompere la spedizione di armi. Akan cerca di rassicurarlo, assicurandogli che risolveranno la situazione. Tuttavia, Kadir ribatte sottolineando che, da quando Akan è uscito dall'attività, hanno perso dieci uomini che conoscevano le regole, e non possono abbandonare tutto improvvisamente. Akan afferma che infrangerà le regole, ma risponderanno all'attacco che pensa sia da parte di Ismail, devono indagare, ma con cautela, poiché la polizia li sta cercando. Kadir informa Akan che per risolvere il caso hanno chiamato suo fratello, assicurandogli che sta bene grazie ai farmaci, e anche Vaap, presente, conferma la sua prontezza ad eseguire gli ordini. Zuleya si presenta nell'ufficio di Akan, esprimendo il suo sgomento per le notizie su Akan Gumuzoglu. Sapeva che era pericoloso, ma non immaginava fino a che punto. Esprime la sua paura per l'uomo e il male che potrebbe infliggere a lei e ai suoi figli. Akan la rassicura, promettendo di essere sempre al suo fianco e che nessuno potrà mai farle del male. Fikret e Betul si trovano in un ristorante. Dopo aver affettuosamente dato da bere a Kerem, Betul chiede a Fikret se preferisce sposarsi in estate o all'inizio dell'autunno. Fikret la lascia libera di scegliere, e Betul esprime il desiderio di una cerimonia molto semplice, poiché l'importante è la loro vita insieme. Poco dopo, Fikret legge sul giornale la notizia su Akan Gumuzoglu, un contrabbandiere, e la riferisce a Betul. Le dice che devono tornare immediatamente a Kukurova, poiché c'è il rischio che possa attaccare nuovamente la tenuta e fare del male ai bambini. Betul non è d'accordo e replica, ma lui non l'ascolta. Quando Zuleya torna alla villa, Sanye le rivela che un giornalista alla radio ha dichiarato di possedere una foto di Akan Gumuzoglu, e quella sera la mostrerà in televisione. Zuleya condivide le sue paure con Sanye, raccontandole dell'incontro a Ismir con sua sorella, dove ha visto una casa e una famiglia apparentemente normale. Sanye ipotizza che Akan tenga separati casa e lavoro. Arriva la sera, e Zuleya si trova con Luce e Min, pronta a vedere la tv per finalmente conoscere il volto di Akan Gumuzoglu. Poco dopo, si uniscono anche Sermin, Sanye e gli altri, e infine si unisce Akan. Zuleya gli dice che stanno aspettando di vedere in tv una foto del loro nemico, Akan Gumuzoglu. Mehmet ascolta rassegnato i commenti su di lui, mentre Gaffur e gli altri lo chiamano assassino e delinquente. Contemporaneamente, tutto il paese si raduna davanti ai televisori, incluso Kadir Evaap, il quale afferma che sarà divertente se mostreranno la vera foto di Akan. Kadir avverte che potrebbe essere anche un disastro, poiché se vengono coinvolti saranno sicuramente rovinati in tv. Inizia la trasmissione che parla di Akan come del più grande trafficante d'armi della Turchia, invisibile nonostante trasporti armi in dieci paesi. Viene intervistato da un giornalista che promette di mostrare la foto del contrabbandiere Akan Gumuzoglu, ricercato sia dalla polizia che dai servizi segreti. Intanto, alla villa arrivano Fikret e Betul. Dopo avergli dato il bambino, Betul se ne va arrabbiata a casa, dicendo a Fikret di non fare tardi per andare da Zuleya. In tv, stanno per mostrare la foto tanto attesa. Fikret entra nella stanza, e Zuleya gli chiede il motivo del suo ritorno. Lui risponde di essere preoccupato per lei, ma vedendo che c'è, se ne va subito dopo. Successivamente, viene mostrata la foto, un'immagine che ritrae un uomo di spalle con il viso nascosto, lasciando tutti a speculare sulla sua vera identità. Nel frattempo, Luce si avvicina a Fikret e gli comunica che Mehmet si è fidanzato con Zuleya e può essere lì quando vuole. Fikret lamenta di aver interrotto la sua vacanza per stare vicino a Zuleya, ma Luce gli risponde che nessuno glielo ha chiesto e che deve concentrarsi solo sulla sua fidanzata. Betul, arrabbiatissima, confida alla madre che Fikret è tornato perché non riesce a stare senza Zuleya, ma ora è stanca e lo metterà alle strette. Sermin le consiglia di non lamentarsi prima del matrimonio e che solo dopo essere diventata Betul fecheli potrà fare ciò che desidera. Il mattino seguente, Sermin dice a Betul di recarsi alla villa e di prendersi cura di Luce, poiché è la sua unica garanzia che Fikret non rovinerà il matrimonio. Betul, arrivata alla villa, non trova nessuno, ma sente Aminne lamentarsi dalla sua camera. La raggiunge, e Aminne le confida di non trovare la foto di Aptipasha, sospettando che le sia stata rubata. Betul la aiuta nella ricerca, e in una scatola, trova una vecchia foto di Demir e Akan scattata a Berlino nel 1962, con una dedica alla nonna da parte di entrambi. Nel frattempo, al circolo, Zuleya e Akan convocano una conferenza stampa annunciando ai giornalisti il loro fidanzamento e l'imminente matrimonio. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti Voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!